Il lavoro che ha fatto la mamma, il bambino del nostro corpo, che purtroppo non è presente, perché il suo papà faceva 80 anni oggi, quindi si scusa, ma ci ha lasciato questo segno. Allora, inizia proprio con una figura bellissima, che è il Vangelo. Dal Vangelo che cosa c'è? Il Vangelo è Gesù, è la sua mamma, e infatti abbiamo in alto la croce di Gesù in alto. Ma sotto il Vangelo c'è questo grande cuore, e questo grande cuore è Gesù di lui, dove la parola scende, dove alberga e cresce, e la frutta, non è che la spiega, la spiega prende frutta, ma non si ferma lì, ma insieme continua a scendere, e sotto c'è un bambino che addirittura è un fratellino. Il fratellino, anche lui, è diventato già una spiega fila, ma anche lui sta sfruttando. E per i bambini, anche il nostro bambino, che appunto rappresenta la futura della nostra fede, c'è Gesù sempre attornato dai bambini. Adesso passo, e passo a Giovanini. I bambini imprudono rappresentare la parola grande, il seminatore. Allora, il seme è la parola di Dio, e poi il seminatore è Gesù, che mette il seme dai nostri cuori. Se quel seme cade sulla strada, non avrà modo di crescere, anzi, gli uccelli lo mangeranno e ne andrà per quel corpo. Questo può succedere quando non voglio ascoltare, e mi lascio a tentare da ogni distrazione, che mi impediscono d'ascoltare. Infatti, io sono più a fianco, quante tentazioni, è tanto bello fare altre cose, perché dobbiamo ascoltare proprio Gesù. Il seme non trova terra, e la sua radice non può crescere. Questo può succedere quando ascoltano la parola di Dio, con sua difficoltà, e non mette in merita sui insegnamenti. Vieni, lei, mia maglione. Questo può succedere quando mi entusiasmo, dei suoi insegnamenti, ma alle prime difficoltà, mi allontano da lui. Vieni, pianuriamo l'imperatore Dio, c'è così forte, che crescerà a conterra fuori, molto fuori, che non ci manterrà in unità. Questo succede anche se considera una attenzione la parola di Dio, e tutti i suoi insegnamenti, e non lo abbandonerà. Questo è il seme 1 della crescita di la parola di Dio, quindi abbiamo questo seme che cresce. Che cosa ho capito? Gesù ha seminato cose belle in ciascuna di noi, e continua a seminare con la tua parola, e aspetta che posti tutti pieni di nulla, affinché non vadano, vadano, sciugati o perduti. Perciò finiamo proprio per dire che questo fruttore accorciato, va messo in modo buono, va maffiato, perché solo così diventa il grado, il grado dell'immunito. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Va molto bene, ha capito, molto bene la parola di Dio, va bene.